Ciao, sono Max Volpi e sono il fondatore del sito ifioridibach.com, nonché l'ideatore della floriterapia transpersonale evolutiva e delle costellazioni floreali, due dinamiche di lavoro interiore che ti guideranno alle radici dell'inconscio. I fioridibach sono rimedi omeopatici? Lo scopriamo in questo video. Ma prima di iniziare ricordati di iscriverti al nostro canale YouTube utilizzando il pulsante iscriviti che trovi qui sotto e dopo clicca sulla campanellina per ricevere ogni notifica relativa alla pubblicazione dei nostri video che avvengono ogni lunedì, mercoledì e venerdì. La domanda che spesso ci viene posta è i fioridibach sono omeopatia? No, i fioridibach non sono omeopatia. I fioridibach ufficialmente per la catalogazione della legge italiana, quindi sono messi in commercio come rimedi erboristici perché di fatto sono macerati di piante che quindi non hanno ricevuto né una dinamizzazione né una succussione, quindi non sono rimedi omeopatici, sono rimedi erboristici. Di fatto Bach, che era un medico omeopatico, nel momento in cui ha deciso di iniziare a lavorare con i fioridibach ha abbandonato l'omeopatia e quindi anche nel conoscere la storia dei rimedi è abbastanza comprensibile che c'è stato proprio un allontanamento da parte del loro ideatore, del loro scopritore, da quella che viene considerata l'omeopatia oggigiorno. E mi preme dire in questo momento, siccome oggigiorno ci sono tantissimi rimedi, tantissimi produttori di rimedi, che se trovi in commercio i fiori di Bach in diluizione omeopatica, quindi ad esempio noi abbiamo trovato un D5, quindi vuol dire che i fiori sono la madre, quindi la tintura da cui si parte, è stata diluita in un decimale di, quindi una volta 1 su 10 per 5 volte, quindi di fatto se trovi i rimedi floreali trattati come rimedi omeopatici non rispettano il volere di Bach che invece diluiva i fiori 1,240, perché la differenza tra 1,240 e 1,100.000 è abbastanza evidente. Quindi sebbene da un punto di vista funzionale anche quelli trattati in D5 alla fine sono un'acqua informata e quindi hanno comunque un effetto, noi ci atteniamo a quelle che sono state le indicazioni del suo fondatore, quindi nella diluizione 1,240. Quindi alla domanda i fiori di Bach sono omeopatia? La risposta è ovviamente no. Mi ricollego brevissimamente a un altro video che ho girato qualche tempo fa in cui si danno le controindicazioni per i fiori di Bach come se fossero prodotti omeopatici, quindi no al caffè, no ai dentifrici alla menta che invece influenzano l'azione omeopatica, non influenzano l'azione dei fiori di Bach che appunto non sono omeopatia. Quindi ti rimando a quest'altro video per eventualmente andare a chiarire anche gli aspetti della somministrazione. Se vuoi approfondire i fiori di Bach e ricevere tutti i contenuti gratuiti riservati ai nostri iscritti, oltre a un ebook da scaricare di 140 pagine sui fiori, clicca il link che trovi qui sotto nelle note. Grazie, ciao!